Libri, riscritti, sensibilità o violenza culturale? Iscriviti sul nostro canale YouTube Radio Raccontiamoci, edizioni digitali. Ascoltaci in podcast su Spotify, pubblica con noi in condivisione. Insomma, Radio Raccontiamoci tutti, la cultura è social. Radio Raccontiamoci, ritagli editoriali di Enrica Bardetti. Da qualche tempo si sente spesso parlare di sensitivity readers, gli editor che vagliano i manoscritti con la missione di identificare passaggi che contengano stereotipi, pregiudizi o rappresentazioni che possano risultare offensivi o dispregiativi nei confronti di alcune comunità minoritarie, etniche, sessuali e culturali. Tra le vittime dei cosiddetti lettori sensibili, per dire in italiano, è finita anche la scrittrice inglese Enid Blyton, uno degli autori per l'infanzia più amati e venduti. Dai suoi testi sono stati tratti film e serie tv molto apprezzati, ma ora, scrive Giulio Meotti sul foglio, la casa editrice a Shett ha deciso che i classici di Blyton, come la banda dei Cinque, devono essere riscritti. Proprio come stava per succedere agli amatissimi sporcelli, a Matilde e alle streghe di Roald Dahl, prima che un'ondata generale di sdegno e una petizione su Cengiorg, promossa dallo scrittore e sceneggiatore Pierdomenico Baccalario, costringessero la casa editrice Puffin Books e gli eredi dell'autore a fare un'inversione di rotta. Ma l'ondata di sdegno che ha salvato i personaggi di Dahl non è servita a scoraggiare i lettori sensibili, dal momento che qualche settimana dopo lo scrittore Robert Lorenz Stein, autore di libri horror dei bambini venduti in milioni di coppie, dopo averlo scoperto leggendo il Times di Londra, ha accusato il suo editore di aver apportato modifiche a sua insaputa a una dozzina dei suoi ormai classici piccoli brividi, censurati per evitare riferimenti di razza o termini come grasso e pazzo. Lo stesso trattamento sarà dunque riservato ai testi di Enid Blyton, da parte della casa editrice Schett, che si è dimostrata irremovibile nella sua decisione, dopo che due anni fa i libri della scrittrice erano stati condannati come razzisti e xenofobi da una fondazione culturale. Dai testi della Blyton scompariranno quindi parole chiave come marrone, con riferimento a volti abbronzati, gay e anche queer, che nelle edizioni del 1942 era l'aggettivo preferito dei suoi comorani delle onde, mai ovviamente inteso come riferimento alla moderna sessualità, ma piuttosto come sinonimo di strano. Riscrivere un libro è un atto di violenza inaudita, attuonato la scrittrice Paola Mastrocola all'indomani della notizia della volontà di ritoccare i testi di Dahl. Se si arrivano a riscrivere i grandi libri, siamo alla fine della civiltà. Chi scrive letteratura, le fa eco baccalario, fa un'operazione artistica che dovrebbe rimanere così com'è. Si possono mettere apparati, note critiche, prefazioni per spiegare, ad esempio nel caso di Dahl che scriveva nel 1930 e che probabilmente se lo facesse oggi non scriverebbe più così. Tanto più, se le modifiche introdotte oggi nei riguardi di alcune parole che potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno, non vengono fatte per andare incontro a motivi etici e morali, ma solo per vendere più coppie. Le polemiche contro la fantasia, scrive Reano di Genova sul manifesto, sono longeve, ma le fiabe, come sosteneva Gianni Rodari, non servono ad allevare esecutori diligenti e limitati, ma ad aprire immaginari. Proponi i tuoi inediti a Radio Raccontiamoci. Guadagna con noi, pubblica e in condivisione. Radio Raccontiamoci tutti. La cultura è social.